Furti all'interno delle auto in sosta, finestrini spaccati e addirittura la presenza di una persona che si aggira con il volto coperto. E' questo in estrema sintesi il contenuto di questi cartelli che sono apparsi in questi giorni nel cuore del centro storico Aretino. Cartelli che contengono un appello rivolto ai cittadini che risiedono proprio in questa zona. Ci troviamo in via De Montetini a pochi passi dal municipio di Arezzo. I due cartelli affissi si trovano uno all'incrocio con via del Saracino, l'altro invece è stato appeso all'intersezione con via Cesa Alpino. Siamo stati in vacanza per un mese, ma quando torno ho visto qui, ma speriamo che... Cosa ha visto? Il cartello? Il cartello, sì, qui all'angolo, qui. Il messaggio è molto chiaro a lanciarlo un cittadino al momento ignoto che si sarebbe trovato ad essere protagonista e testimone di alcuni spiacevoli episodi. Nel palazzo siamo molto cauti, ma le macchine come si fanno le notte? Negli ultimi giorni, recita il cartello, si sono verificati furti e danno delle auto in sosta, alle quali sono stati sfondati i vetri, rubati dei pezzi di ricambio e poi, l'episodio più grave, un uomo col volto coperto si è avvicinato all'auto dove una signora metteva un bambino nel seggiolino. C'è mancato poco che non le rubasse la borsa. Occorre, conclude, chiedere alla Questura di mettere le telecamere per la nostra sicurezza e non quelle per fare le multe. Questa zona, infatti, è un'area destinata alla sosta per soli residenti. L'accesso delle auto dal prossimo lunedì sarà completamente regolamentato dalle telecamere di ingresso ed uscita per la ZTL.